La strada impegnativa è la nuova Z1000 SX La Z1000 SX è progettata per affrontare e vincere la sfida urbana giornaliera e per farvi godere del massimo divertimento durante il weekend sfruttando tutto il potenziale delle sue incredibili componenti tecniche Sulla base del grande successo riscosso della Z1000 la nuova Z1000 SX è pensata per un motociclista esigente che conosce le sue potenzialità e vuole tutto dalla sua moto Caratteristiche come maneggevolezza, comfort, cittadino e in autostrada design elegante, sportività e aggressività sono tutte di serie sulla splendida Z1000 SX La componentistica vincente della Z1000 è cuore e anima della nuova Z1000 SX Il motore con 138 cavalli, la leggerezza, un telaio reattivo in alluminio e un sistema di sospensioni di arresto performanti portano la moto al top della sua categoria In una stretta gincane urbana o in un lungo weekend turistico la Z1000 SX ha il giusto mix di classe e risparmio Lo schermo protettivo regolabile, la seduta ergonomica per il passaggero e la capacità aumentata del serbatoio fanno di questa moto un veicolo capace di lunghe percorrenze con comfort e stile E parlando di stile, la Z1000 SX può essere accessoriata con una gamma di parti Kawasaki originali per essere trasformata in una moto touring duttile e divertente Per un motociclista sport tourer con buona esperienza di guida proprietario nel suo recente passato di una super sportiva oppure di una moto della middle class finalmente sarà facile per lui scegliere la prossima moto Divertente, conveniente e di stile Diamo il benvenuto alla nuova Z1000 SX Kawasaki Divertente, conveniente e di stile Grazie a tutti.